Buongiorno, oggi ci troviamo nel comune di Carpiano e più precisamente nella frazione di Francolino. Oggi vi andiamo a presentare un appartamento bilocale di ampia metratura, sono circa 70 metri quadrati, con il box. Attualmente l'immobile risulta allocato. L'immobile è molto comodo per la sua posizione strategica perché siamo collegati alla tangenziale. Eccoci nell'appartamento, come vi dicevo, ampio bilocale con soggiorno molto ampio, come potete notare con zona divano e zona tv. Cucina anch'essa ampia, resa a vista, con un piano da lavoro tutto sulla parte sul muro, sulla sinistra. A completare questo ampio soggiorno troviamo questo balcone bello profondo che circonda tutto l'appartamento. Eccoci nel disimpegno dove sulla mia sinistra troviamo questo spazioso bagno con vasca. E inoltre per completare questo immobile abbiamo questa ampia camera matrimoniale con pavimentazioni in parquet e uscita sul balcone. Abbiamo appena visionato un appartamento di circa 70 metri quadrati, appartamento bilocale con soggiorno ampio, cucina, bagno e camera matrimoniale. A completare l'immobile abbiamo il box di pertinenza. Per visionare questo immobile potete passarci a trovare presso i nostri uffici in San Giulio milanese via Gorkhi 8, a San Donato milanese via Morano di 23 e a Milano via Molino dell'Armi 5. Oppure visionarlo sui nostri social Instagram e Facebook immobiliarefreedom.it. Immobiliare Freedom, liberi di scegliere i migliori.